Allora qui abbiamo il piacere di avere anche Don Michele Romano, no? Ado Pasquale Romano, ma qui va? Come fatti a una da voi? No, voglio fare l'applauso a Usoll, amiche ovviamente che si chiamate, nove d'arte, anche anche al pianista. Le chiede ci siamo visti poche volte, ma a fidanzare ci siamo visti diverse volte a Barrega, moglie. Perché voglio fare l'applauso a Usoll? Perché diverse volte, quando sono passato alla zona di Pirlero, lo incontravo là, a cappella di Sant'Antonio, con gli strumentalisti a Fè Prova là dentro. E altre volte, stando qua a terra, lo sentivo là a suonare. Ciò significava che non c'era un posto dove potersi esercitare. E quindi ciò dimostra la buona volontà sua e degli altri strumentalisti. E non parlo di assenza, di comune, di attivo. Purtroppo le strutture qua di fuori sono queste, noi abbiamo delle belle tradizioni musicali, canore. Siamo tanti artisti attualmente, tanti ciumi che stanno andando al conservatorio. E fa sempre piacere ascoltare queste belle serate, che loro fanno gratuitamente. E quindi questo dà maggiore merito a tutti quanti loro. E allora quello che, Giacomando, andate sempre avanti, che dove nascono gli interessi, là si spegne l'amore. E allora andiamo per amore, non andiamo mai per interessi. Quando ci stanno pure chiede, riempiamoci anche la tasca di queste cose. Va bene? Un applauso! Grazie mille! Grazie. 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 Ora, prima di andare un attimo solo... Prima di andare un attimo solo... Prima di andare un attimo solo... Scusate troppo tempo... Scusate un attimo... Siccome vi ho parlato della grotta di Pietro... E allora vorrei cantare la mia canzone... Dove si nomina anche questa grotta... Io purtroppo sono sempre impadente... E' la mia piutta abitudine... Però cerco sempre di dare il mio contributo... All'arte e alla gioia... Di coppa a sta terra... Nisciuno è contenta... Cerco ogni ancora... La felicità... Di dalla grotta... Ci manca il nara... Ci manca lo pane... Ma pace ci sta... E allora... Il tuo cuore... Vieni, te... E' in casa mia... Io non voglio... Grazie a tutti. Grazie a tutti.